Andiamo in piazza dopo un lungo percorso di assemblee con i lavoratori, abbiamo raccolto il disagio dei lavoratori costretti a lavorare in condizioni pesanti dovute al calo di personale e all'aumento del carico di lavoro perché molte agenzie vengono chiuse. Non aumenti ma qualità delle condizioni di lavoro e dei servizi ai clienti. È quanto chiedono i bancari di Unicredit che scioperano e scendono in piazza domattina a Monfalcone in Piazza Repubblica e il 3 dicembre a Trieste in via San Nicolò. E oltre alle manifestazioni promuovono un gesto di solidarietà. Abbiamo deciso di scioperare all'incontrario, ossia lavoreremo un'ora e abbiamo deciso di devolvere un'ora del nostro stipendio per le popolazioni alluvionate del Friuli Venezia Giulia. Eloquenti le cifre fornite dalle sigle sindacali di categoria Fabi, First Cisle, Fisac CGL, Wilka e Unisin di Trieste e Gorizia. Un calo di 150 addetti in sei anni nelle due province pari a una flessione del 33%. Abbiamo riscontrato un calo della qualità della vita e anche la qualità del servizio per cui ci preoccupiamo sia dei clienti che dei lavoratori. In questo senso abbiamo chiesto all'azienda di migliorare certe operatività per velocizzare, per migliorare la qualità del servizio. Ma purtroppo l'azienda non solo ci ha risposto negativamente ma anche le attività che sono state implementate non sono funzionali perfettamente. Quindi si creano file agli sportelli, disagi per chi deve lavorare. Veravamo radicati in ogni angolo della città e anche nei piccoli centri. C'era una capillarità estesa di tutte le agenzie. Con la chiusura di numerose agenzie si porta via una caratteristica che era tipicamente di una banca del territorio. Un'altra particolarità di Trieste è che l'età media dei clienti è molto elevata e quindi sono dei clienti che hanno bisogno di una consulezza un po' più personalizzata. Grazie.